Rinviata a giugno l'udienza preliminare nei confronti del ragazzo romeno che oggi ha 16 anni accusato di aver aggredito a Lanciano nell'ottobre 2020 con un pugno alla tempia Giuseppe Piedastolfo che restò in coma per un mese. L'udienza preliminare è prevista e sarà rinviata per incompatibilità del giudice Roberto Ferrari. Quest'ultimo all'epoca dei fatti aveva guidato le indagini preliminari e aveva firmato l'ordinanza di misura cautelare nei confronti dell'aggressore. Giuseppe Dastolfo che oggi ha 20 anni è assistito dall'avvocato Giovanni Mangia del foro di Pescara. Il 16enne è difeso dal legale Vincenzo Menicucci del tribunale di Lanciano. Il pubblico ministero Lorenzo Maria Destro ha chiesto per il 16enne il rinvio a giudizio con le ipotesi di reato di lesioni personali gravi con le aggravanti di aver commesso il fatto con più persone per futili motivi. Secondo le indagini svolte dai carabinieri quella sera a sferrare il pugno a Dastolfo furono due ragazzini allora a 13 anni che erano in compagnia del 16enne che però non possono essere imputati perché non avevano ancora compiuto 14 anni il giorno del pestaggio. Il nostro dolore non vale a niente abbiamo affrontato molte cose non abbiamo ancora finito perché le cure che sta facendo Giuseppe sono tante. Prendere farmaci ha detto la madre di Giuseppe a noi telebolise e tanta rabbia di mamma Paola. Ora Giuseppe con la sua famiglia è tornato a vivere a Termoli frequenta la scuola serale la mattina lavora ma i vuoti di memoria causati dall'aggressione gli rendono lo studio difficile. Abbiamo saputo del rinvio a giudizio una volta arrivati nel capoluogo abruzzese non eravamo obbligati ad essere lì ma lo abbiamo fatto ha detto ancora mamma Paola per dare un segnale che noi continueremo a lottare per avere giustizia non chiediamo altro.